E' passata abbastanza in sordina sui mezzi di informazione la pubblicazione di un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede che era rimasto riservato fino dal febbraio del 1978, cioè da quando venne approvato dal Papa Paolo VI, norme per procedere al discernimento di presunte apparizioni o rivelazioni. Come è stato spiegato si trattava di un documento di lavoro riservato ai Vescovi diocesani che sono i primi chiamati in causa a giudicare di eventuali fenomeni che dovessero accadere nel loro territorio. In ogni caso viene ribadito il carattere privato di qualsiasi rivelazione, anche venisse riconosciuta dalla Chiesa, un aiuto offerto al cammino di fede ma del quale non è comunque obbligatorio fare uso. Il documento ribadisce che è compito del Vescovo locale arrivare ad un giudizio. O consta della soprannaturalità o non consta della soprannaturalità. Altre formule non sono previste, non esistono. E per fare questo il Vescovo deve avviare con prudenza una indagine sulla attendibilità dei fatti, sulle qualità delle persone coinvolte, gli insegnamenti che vengono diffusi, i frutti spirituali che ne derivano o se non vi siano, al contrario, errori dottrinali, ricerche di lucro, immoralità, devianze patologiche. Inoltre, ancora prima di arrivare ad un pronunciamento, il Vescovo può regolamentare alcune forme di culto e di devozione da parte dei fedeli. Tutto questo, dicevamo, è compito del Vescovo. Ma nel caso i fenomeni trascendano la dimensione locale, possono essere chiamati ad intervenire anche i Vescovi della Regione, la Conferenza Episcopale, o su richiesta la Santa Sede. Senza dubbio il caso più eclatante in questi ultimi anni è il fenomeno Meggiugorie. Il nostro settimanale è un servizio ecclesiale e non è nostro compito fornire giudizi o opinioni personali. È nostra precisa responsabilità invece, e lo dovrebbe essere anche di ogni singolo Vescovo e di ogni singolo sacerdote, di rimanere rigorosamente ai fatti. E i fatti sono questi. Nonostante sia spesso sottaciuto, i due Vescovi diocesani di Mostar, che si sono nel frattempo succeduti e a cui fa capo la parrocchia di San Giacomo di Meggiugorie, sono intervenuti più volte sulla questione in maniera ufficiale, non solamente a titolo personale, e tra l'altro prendendo provvedimenti gravi nei confronti di religiosi disobbedienti e macchiatisi di pesanti irregolarità. Nel 1991, l'allora conferenza episcopale della Jugoslavia, è arrivata ad una conclusione che in seguito è stata sempre confermata anche dalle autorità vaticane. Sulla base delle ricerche sin cui compiute, non è possibile affermare che si tratti di apparizioni e fenomeni soprannaturali. Cioè, proprio come previsto dal documento che ricordavamo, non constat de supernaturalitate. Ciò significa, per usare le parole dell'attuale Vescovo di Mostar, non signor Ratko Peric, che non sono permessi, non sono permessi pellegrinaggi che presuppongano il carattere soprannaturale dell'apparizione. A Meggiugorie non c'è un santuario della Madonna, c'è la parrocchia di San Giacomo. Non ci sono messaggi autentici, né rivelazioni, né apparizioni verificate. Lo stesso Vescovo ha inoltre dichiarato ufficialmente, Né il Vescovo, né alcun'altra autorità competente ha finora ufficialmente eretto la Chiesa di San Giacomo di Meggiugorie a Santuario Mariano, né ha approvato un culto alla Madonna in base alle cosiddette apparizioni. Anzi, a causa di tutta la controversia, il Vescovo ha più volte vietato di parlare dall'altare della Chiesa della soprannaturalità delle apparizioni e rivelazioni e di organizzare pellegrinaggi ufficiali a nome di parrocchie, diocesi e della Chiesa in genere. Chi agisce altrimenti, sono ancora parole del Vescovo, crea confusione e divisione tra i fedeli e procede esplicitamente contro gli ammonimenti emanati dai Vescovi e dalla Santa Sede. La presunta approvazione privata di Giovanni Paolo II alle apparizioni di Meggiugorie non è supportata da nessun tipo di documento ufficiale o meno. Occorre prudenza dunque, prudenza, perché non tutto quello che ruota attorno a Meggiugorie risplende di luce. Ci sono tanti frutti spirituali e conversioni, si dice spesso, certo e grazie a Dio. Ma si sono registrati, e questo purtroppo non viene detto, da parte di religiosi molto vicini ai presunti veggenti e sono agli atti, purtroppo anche gravi violazioni dei voti religiosi, della legge canonica, disobbedienze, per non parlare di devianzie ereticali, millenariste e veri e propri atti scismatici. Restare ai fatti dunque, questa è precisa responsabilità dei pastori della Chiesa, che non devono costruire percorsi spirituali per i fedeli su strade che non sono mai state confermate dalla Chiesa. Dunque, presunte apparizioni, presunti veggenti, presunti messaggi, comunque privati e non necessari al cammino della fede. Salvo, meglio riudicio.